Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi giornata di restyling della cameretta Guardate che disordine, veramente un disordine allucinante Buste, televisioni per terra, valigie, letto non fatto, c'è di tutto Ho comprato un po' di cose che devo utilizzare per sistemare un po' tutta la scrivania Vedete, non mi piacciono tutti questi fili che si vedono qua e là Voglio sistemare, poi ovviamente vedrete dopo come l'ho sistemata Non so quanto tempo ci metto, quando uscirà questo video, ma vabbè Voglio mettere i due monitor messi bene, però senza far vedere questi fili e tutto il resto Il microfono piazzato sopra, una lampada Due lampade che mi devono arrivare, però mi arrivano la settimana prossima Quindi forse ancora non le vedrete, rimaro lo spazio Poi devo sistemare le cuffie, il telefono, il modem Devo sistemare un po' tutto Quindi ragazzi il disordine ve l'ho fatto vedere E ci aggiorniamo con una nuova clip successiva a questa Quando avrò ordinato un po' tutto Allora ragazzi, direi sistemata la postazione o meglio aggiornata Sempre la sedia Ho attaccato, ho posato le cuffie qui Poi qui c'è anche la lampada, come vedete Un microfono che lo posso spostare come voglio Computer messo qui Mouse, vabbè, caricatore Poi ve lo faccio vedere sotto Tastiera, i due monitor Qui dietro ci sta praticamente il telefono E il modem, li ho messi lì La Playstation l'ho spostata qui Anche se vedete esce fuori il calo HDMI Lo devo un po' sistemare, devo fare un buco qui Penso, per inserirlo ora devo vedere un poco Ho cercato di nascondere il più possibile i fili Vi faccio vedere qui dietro più o meno A presto, i due monitor Questa è più o meno la postazione Qui dietro ci sono anche i led Vi devo mettere i rossi Per il momento vabbè sono bianchi dietro i monitor Però vi devo vedere un po' Poi ragazzi mi arriveranno le luci Quelle importantissime E poi nella parte qui dietro metterò il green screen Che già ho delegato Non so se l'avete visto non lo so Che posso inserirlo senza problemi Però lì serve la luce giusta per Impostare bene il green screen E poi devo mettere la telecamera che non è questa È quella che sto usando La fotocamera anzi Devo impostarla in qualche modo Vorrei mettere tipo un cavalletto piccolino qui dietro Ma la devo trovare perché non ce l'ho Quindi ragazzi questa è la mia postazione E niente noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi